Ciao ragazzi e ben ritrovati da Mattia Rock God per un'altra recensione di film. In questo video andiamo nel catalogo Netflix e parleremo di un film un po' particolare. Il film si chiama Un'ombra negli occhi, film storico-drammatico del 2022 diretto da Ole Bornedal, film di produzione danese. È ispirato a una storia vera, peccato però che il film abbia avuto delle critiche dal punto di vista storico, vi dico solo questo, poi ne parleremo più avanti nel video. Il film dura un'ora e quaranta, peccato solo che per la prima ora si ha tutta quanta storia, diciamo, e poi negli ultimi quaranta minuti succede il delirio. Allora, di cosa parla questo film? Parla di un'operazione che è stata condotta dall'esercito inglese contro i tedeschi. Praticamente la divisione aerea, la RAF sostanzialmente, aveva come obiettivo il comando centrale della Gestapo. Ovviamente col bombardamento di questo comando centrale gli inglesi avrebbero avuto un vantaggio enorme sulla guerra. Peccato che le coordinate siano sbagliate e al posto di bombardare la sede della Gestapo bombardano una scuola. Quindi vi immagino il casino e il delirio. Sostanzialmente il film si concentra su questo evento, quindi il bombardamento, negli ultimi quaranta minuti. Quindi la prima ora di film è tutta narrazione, conosceremo i personaggi, vedremo un po' le loro vite sostanzialmente. Poi quando ci saranno gli aerei in volo, ecco è lì che la parte interessante del film accade. Perché poi quando la scuola viene bombardata è tutto un flusso di emozioni, di ansia, di tensione, perché succede letteralmente il casino quando le bombe inizieranno a cadere sulla scuola. E la recitazione è molto buona, del cast non conoscevo nessuno, quindi tutte persone nuove. Peraltro il regista si è portato addirittura un pezzo di famiglia sul set, perché la parte della sorella Teresa è interpretata da una delle figlie del regista. Quindi appena vedrete il personaggio della sorella Teresa avete già capito che quella è una delle figlie del regista, ne ha tre di figli. Quando ho scoperto che aveva lo stesso cognome del regista però sicuramente è una parente del regista, infatti ho scoperto che aveva delle figlie, quindi bene. E poi un'altra cosa che volevo dirvi, ovviamente anche i bambini recitano benissimo, eh? La bambina che fa Rigmor, quella che fa Eva, quello che fa Henry, sono loro i tre bambini protagonisti, possiamo dirla tutta. Le scene di violenza non sono poche, abbiamo la scena iniziale dove una macchina viene crevellata di colpi, ma l'impatto di quella scena, a parte che accade all'improvviso, ma l'impatto di quella scena mi ha veramente colpito e la reputo forse la scena migliore di tutto il film a livello di emozioni. Anche il bombardamento è tutto quello che segue dopo, ovviamente, emozioni a mille, però quella del bombardamento della macchina all'inizio della pellicola è qualcosa che mi ha veramente distrutto perché non me l'aspettavo proprio, veramente fatta bene. Poi, tutta la parte del bombardamento devo dire ci sta benissimo, le macerie che cominciano a crollare, gente che prova a fuggire, qualcuno addirittura rimane intrappolato, si cerca di salvare più persone possibili, tant'è che vengono chiamati tutti i soccorsi. La parte dove Henry deve scrivere sul block notice perché dopo aver visto la macchina crevellata all'inizio del film perde la possibilità di parlare, la ripiglia solo alla fine e quando gli viene detto segnati sul block notice tutte le persone, i bambini o i bambini che vengono salvati, descrivi il cappottino magari, il colore degli occhi, il colore dei capelli, quanti anni ha, in chi ospedale l'han portato, così da comunicare alle famiglie eventualmente se hanno salvato il bambino o la bambina oppure niente. Quindi veramente un sacco di emozioni nella scena iniziale e poi negli ultimi 40 minuti col bombardamento tutte le conseguenze. Parliamo adesso dei due errori storici perché il film purtroppo è stato criticato per questi due errori. Il primo è appunto la scena della macchina, quindi quella iniziale, perché han detto che le famiglie, teoricamente, delle persone morte in quella macchina, quindi in quella specie di atto, hanno avuto da ridire sull'efferatezza della scena sostanzialmente e quindi hanno deciso di chiedere al regista una sorta di modifica in corso d'opera della pellicola, modifica che poi è stata fatta. Addirittura è raro che il film che è stato appunto fatto vedere in premiere venga modificato prima del rilascio nei cinema, quindi qualcosa di assurdo, ma in realtà è la seconda inesattezza storica quella che mi ha più colpito, perché durante la parte dei salvataggi dopo il bombardamento c'è un discorso che si protrae per diverse inquadrature tra sorella Teresa e Rigmor, entrambe ovviamente sotto le macerie. Il discorso in questione che vediamo nel film, quindi tra la sorella e la bambina, in realtà non è mai avvenuto, ma non della serie l'ha messo il regista per allungare il brodo. No, no, il discorso c'è stato, ma la bambina non c'entrava niente, doveva esserci un'altra suora al suo posto. Quindi il discorso è tra due suore, non tra una suora e una bambina. Il regista comunque ha chiesto scusa perché ha cercato di modificare anche in questo caso il film, ma non ci ha riuscito e ha detto che sicuramente gli spettatori se ne sarebbero accorti. Quindi, ok, forse delle scuse in più sarebbero state meglio, diciamo. Però questo qui forse è l'errore più assurdo del film, perché quello della macchina, ok, hanno fatto una modifica in corso d'opera alla pellicola, ma l'altra cosa, quella del discorso, vabbè, si poteva magari essere più storici, cioè più storicamente accurati, ha questa espressione migliore, invece no. Vabbè, diciamo che io mi sono documentato sulla cosa dopo aver visto il film, ovviamente, e ho detto, ah, quindi secondo i critici questo è un errore, il discorso tra la suora e la bambina doveva essere due suore. Quindi ho detto, non lo sapevo, ok? Comunque poi alla fine il film è stato recensito bene, eh, io sono rimasto soddisfatto. Peccato che il bombardamento avvenga molto tardi, va bene che sono 100 minuti, però la prima ora passa in maniera abbastanza altalenante. È quando iniziano a cadere le bombe che il film inizia a prendermi di interesse, ho detto, oh, finalmente inizia il bombardamento, vediamo un po' che cosa succederà. Ovviamente anche la scena della crivellazione della macchina l'ho trovata ben fatta, un sacco di emozioni, però effettivamente quello che succede dopo la crivellazione, quindi appena prima del bombardamento, è tutta narrazione per farci conoscere i personaggi, eccetera, eccetera. Va bene, ci sta, però, ecco, secondo me un'organizzazione migliore dei tempi registici sarebbe stato meglio. Bene, direi che possiamo andare al voto. Rimane comunque un voto abbastanza alto, è il voto tra il 7 e l'8, perché comunque dal punto di vista delle emozioni ci siamo. Peccato per queste due inesattezze storiche, se così possiamo dire, anzi, quella del discorso sotto le macerie è un'inesattezza storica. Quella della macchina è più, non so come definirla, è più una sorta di errore di girato, possiamo dire così, perché poi alla fine il regista ha dovuto fare un cambio in corso d'opera. Possiamo chiamarlo un errore di girato, ecco. Bene, direi che ho finito qui per questo video, vi ringrazio dell'attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere tutte le notifiche sui prossimi video aggiornamenti. E noi ci vediamo alla prossima!